accadde oggi 31 maggio 2018 per la terza volta l'artista agostino russo finisce in di vita in ospedale oggi 31 maggio 2021 il sole asciuga ciò che furono le lacrime di ieri senza rinnegare il sudore che sarà il domani e si festeggia nei tre anni di uscita ritorna la gioia di vivere 12